E' stata commovente partecipata dalla comunità di Monte San Giacomo la cerimonia di intitolazione di quattro strade cittadine ad altrettante personalità illustri del paese che hanno rappresentato nel corso della loro vita e con la loro opera un esempio di grande spessore culturale e religioso non solo per il piccolo comune del Vallo di Diano ma per tutto il territorio italiano. Le quattro personalità sono Michele Iacontino già presidente dell'Associazione Italiana Paraplegici battutosi per i diritti di disabili e pensionati, Alfredo Nicodemo giurista e presidente del Tribunale di Sala Consilina, Pietro Laveglia editore storico e promotore del centro studi e ricerche del Vallo di Diano e padre Salvatore Lisa medico sacerdote gesuita e particolarmente generoso nei confronti delle famiglie povere. La cerimonia ha avuto inizio presso Palazzo Marone dove il sindaco Raffaele Accetta e l'assessore alla cultura Angela D'Alto hanno esposto le motivazioni che hanno portato all'intestazione delle strade alle quattro personalità designate, tutte accumulate nel corso della loro vita dagli sforzi compiuti per il bene del paese. Iacontino, Nicodemo, Laveglia e padre Salvatore sono stati ricordati anche attraverso i ricordi e le testimonianze da parte dei loro familiari. Poi la cerimonia è continuata lungo le vie oggetto delle varie intestazioni tutte ubicate nel centro storico con lo scoprimento delle targhe della toponomastica eseguito dai familiari e la benedizione del parroco Don Agnello Forte.